Grazie, Maghetto, bello, te bacio tutto. Luciano, possiamo cominciare, dai. Sì, iniziamo. Che bei prodotti ci saranno questi oggi. Te, spettatrice, amica, casalinga, che stai fa? Stai buttata sul divano? Ma fa bene, ma... Beh, adate, oggi ciò vogliamo ancora di guardarmi allo specchio. Meglio, guardi. Guardi, non è una brutta idea, eh. Bella, oggi la tua amica Veronica ti va a proporre un oggetto innovativo, tecnologico, elegante. Cos'è? Dice che è? Che è? Cucchio! Ma è un cucchiaio? Questa qua è tutta lega soffiata, gotta a legna. Sì, sì, è un cucchiaio. Diciamo, ma niente niente se lo siamo inventati noi italiani. No. No, questo è tedesco, come il papa, che quelli sono tosti, sa, te fanno riga dritta e finirà la bacchia pure per voi. Ma cosa serve cucchio, scusi? Dice che ce fai fatti con cucchio? E ma qualcosa sa, vent'anno. Ma mangi la minestra, tipo, no? Luciano, bello, segui, ma andiamo a vedere il particolare. Andiamo a vedere il particolare. Cucchio, se vara. Ma non è adatto per la crosta. Sarebbe meglio un coltello. Schiaccia! Diciti, che spettacolo! Che spettacolo! Bravasa! 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 Da una parte all'altra! Pensa, che invenzione nuova, eh! Ma soprattutto Cucchio, grazie a un brevetto innovativo, si mescola da una parte e dall'altra. Ah, puro! Mi sento stanca di girare da sta parte, che mi frega, cambio mano e giro da questa parte. No, ma è incredibile, scusi, ce lo fa rivedere, perché è una cosa incredibile quella che... Da una parte... Con una mano si gira e poi dall'altra. Non è particolare il brevetto, sono tedeschi, quelli sono tosti, sa, c'hanno una capoccia. Amica, c'ha i gatti sotto casa che miagolano tutto il giorno. Eh, cosa fai? Di butti i Cucchio? Vesce una solita porpetta avvelenata. Ma no! Cucchio, ti diventa catapulta! Dieci metti in sasso! No, senta! Pimpe, la mira e i bamboli ammazzati! Ma no, ok, ma c'è i gatti, poverini! Dici, amica, sei triste che ti è morto un parente, l'amica? Ma che te frega, canta che te basta! Cucchio ti fa la musica! È anche perfusiono! Senti che ritmo! Però serve anche picchio insieme a Cucchio, eh! È il risco della noce, amica! Eh sì, sì! Mi gusta la noce di Cuba, sì! Ma soprattutto, amica, quante volte girate per casa con sto avvomano, che non sapete come fa, come rompelo! Non c'è, con Cucchio, una botta secca che non ha la paura! Ha paura di pota! Sai che è un prodotto straordinario questo Cucchio! È un prodotto straordinario! Dici, arriva l'estate, mi vorrei tanto far pisolino ma ce ne sta al sole! Come faccio? Che cosa c'entra? Con due Cucchioni è risorto al problema! No, 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 va bene! Ti è, manco sotto terra, stai così tranquilla! Però se ne vogliono due, quanto costa? Marica, quante telefonate mancano? Credo 18.000, credo! Cinque! Cinque! Oggi sono generosa, ma io roviniamo! All'ultimo, vedrai ieri che hanno pure il fanno per asciugarlo! Che spettacolo! Cucchio, soli 99 euro! Un cucchiare! Per numero sopra l'impressione! No, non è sopra l'impressione! Dai, è bello, ma ne voglio andare a mangiare! C'è un buco al stomaco che mi arriva dietro di Regni! Ma sta direttora! Marica! Ma chi è Marica? Cucchio, per numero sopra l'impressione! Ma abbiamo capito! Arrivederci, la vostra Veronica! Arrivederci! Fora!